Non bisogna dare più visibilità agli uomini di Cosa Nostra che hanno martoriato il territorio bloccando lo sviluppo, e portando dolore e morte. Lo dice all'Ansa Nicola di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, strangolato e sciolto nell'acido nel 1993, per volontà di Brusca, Messina Denaro e Bagarella a proposito della presentazione del libro di Giovanni Brusca. Fu un rapimento per fare ritrattare il padre, Santino di Matteo, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Queste manifestazioni come la presentazione del libro di Giovanni Brusca, afferma, servono solo a riaprire ferite dolorose in quanti hanno perso i propri cari e su questi personaggi, aggiunge il fratello del piccolo Di Matteo, deve calare l'oblio, il silenzio. Non devono avere più alcuna possibilità di poter parlare. Brusca non si è mai mostrato veramente pentito per tutto il male compiuto in quegli anni. Dare a lui una ribalta, conclude, è solo un grave errore che porta in noi che abbiamo sofferto solo altro dolore.